come discutere gli schiacponi, non vai, aiuta non mi fermo giù veloce grande allora tutto a posto sanguinare non sanguino quindi è andata bene la sederata è stata ripresa di tallone i talloni vieni giù con i piedi dritti piedi dritti fai saltelli fai passi lunghi più lungo il passo più lungo il passo guarda la katia usa i bastoncini la braccia larghe quasi 1 e mezzo saltello un po' guarda la katia come fa vai vai salta corre un po' più deciso stai più avanti col peso più avanti col peso piedi dritti giù a sinistra